L'Università della Calabria riconquista il podio tra i grandi Atenei italiani nella classifica Censis relativa all'anno 2022-2023. L'Ateneo si piazza al terzo posto con un punteggio di 90,3, a meno di un punto dalla prima dell'Università di Pavia, che si è attestata su una valutazione complessiva di 91. L'Unical conferma il primato assoluto, considerando tutti gli Atenei, al di là delle dimensioni per i servizi, che riguardano residenze immense e migliora il punteggio per le borse di studio. Un dato considerevole che posiziona l'Ateneo in controtendenza rispetto agli altri presenti nel resto del Paese. L'Unical, infatti, non solo non arretra, ma migliora, grazie a un deciso investimento, sul diritto allo studio. Dall'analisi del Censis emerge inoltre un calo delle iscrizioni negli Atenei italiani, correlato alla pandemia e alla contrazione dei redditi familiari. Anche qui, l'Unical sorprende in controtendenza. I nostri dati non solo confermano il grande aumento dello scorso anno, ma segnalano un ulteriore incremento del 2,7% degli iscritti.